Non sono roccia. Un acquaro è una piccola cisterna naturale scavata nella roccia dall'acqua piovana che rimane al suo interno per quasi tutto l'anno. Se ti fermi con calma ad osservare quello che trovi qui vicino, potrai vedere emergere periodicamente dall'acqua i rari tritoni, ascoltare il fruscio di una biscia, il gracidio di rane e rospi e il caratteristico suono del loro tuffo. Puoi lasciarti stupire dal volo veloce e vibrante delle libellule adulte che sfrecciano attorno alla pozza alla ricerca di prede. La vita nell'acquaro. Un acquaro è un importante punto d'acqua per la fauna, indispensabile per quelle specie che vi sono legate per la riproduzione. Come anfibi e libellule che depongono le uova in acqua e hanno stadi giovanili acquatici, girini per rane e tritoni, ninfe per le libellule, che respirano attraverso le branchie. Solo dopo la metamorfosi si trasformeranno in adulti molto diversi che per respirare devono uscire dalla pozza. Tirando il pomello a destra, apri il cassetto qui sotto e impara a conoscere gli animali riprodotti all'interno. Se poi ti avvicini all'acquaro, in silenzio e con rispetto, potrai osservarli o ascoltarli dal vivo. Quando continui il percorso chiudi con cura il cassetto.